Per Bicisport e qui Bicisport siamo in compagnia di Luca Scinto. Allora Luca facciamo un gioco, io ti faccio alcuni nomi di corridori italiani, giovani e meno giovani, in ottica campionato italiano e Tour de France e tu dai loro un consiglio. Partiamo con Lorenzo Fortunato che tu conosci molto bene, cosa gli diresti? Ma io direi che quest'anno ho fatto un discreto giro d'Italia, però ripetersi come l'anno scorso non era facile, però l'ultima settimana l'ho visto molto bene, direi di mantenersi così, è un ragazzo intelligente, io l'ho avuto due anni e so che è un ragazzo molto intelligente, sa correre, curvo, gli dico che non c'è solo il giro d'Italia ma ci sono altre corse che lasci qualche segnale anche a qualche altra corsa in Italia o all'estero per farsi conoscere e crescere. Senti, classifica generale o tappe per lui? Per ora direi solo tappe e mollare la classifica, per ora, tra qualche anno potrebbe puntare la classifica generale, ma io gli consiglierei le tappe, però non sono il suo manager. consiglio che ha fatto un numero della Madonna, anche se io ripeto sempre che vincere in fuga è diverso che vincere partendo dal gruppo, senza levare niente a Covi che è un grande corridore e tutto, però ho visto il giorno dopo che l'hanno esaltato come ha vinto una bellissima corsa, però in fuga hai meno avversari che partendo dal gruppo, io la vedo sempre così. Quando andavo a fare i contratti io da corridore mi dicevano sempre ma hai vinto staccando tutti o in fuga, e dicevano no ho vinto in fuga, conta meno che staccando tutti dal gruppo il contratto, ora questa è una battuta che ho fatto, comunque come un forte atleta. Io dico che le classiche potrebbero essere un trampolino di lancio molto positivo per lui, anche perché in quella squadra lì c'è tanti corridori che puntano alla classifica e non credo che abbia lo spazio giusto, però nelle classiche credo che abbia più spazio. È giovane ancora, ha dei numeri, potrebbe essere un corridore fra due anni, due o tre anni per fare la classifica, non dico due o tre anni, due anni per provare a fare una classifica a un Giro d'Italia, non la montura ma a un Giro d'Italia. Io so che ho avuto anche dei problemi quest'anno da risolvere fisici, consiglio che è un grosso motore, consigliare, è un grosso motore, è una petina fondamentale del quartetto, è pista, lui e Ganna sono il top, Io una volta ho fatto una battuta e ho detto con Ganna, con Milan, se chi ci mette nel quartetto, chi sono dentro, sono tutti validi per far bene, ma se manca Milan e manca Ganna, il quartetto è molto inferiore alle aspettative, senza togliere niente agli altri. Bene la pista, ma potrebbe essere un corridore da Parigi-Roubaix, un corridore da Fiandre, credo che possa essere un corridore che potrebbe avere questo avvenire. Vi consiglierei di fare le classiche, la prima classica è l'Air Nord, da Fiandre-Roubaix. Io stimo una stima immensa, sono innamorato di Ganna, mi piace tanto, ha un motore incredibile, va forte, pesante qua, va forte anche in salita, è un ragazzo che ha delle potere di salita incredibili e ancora potrebbe migliorare ancora, molto. Pensa che è fortissimo, potrebbe ancora migliorare molto. Io lo vedo vincitore da una Parigi-Roubaix, è me lo gioco, in futuro vincerà sicuramente una Parigi-Roubaix e mi auguro che batti il record dell'ora. Richirarsi a mezzo giro, finire il tour, non lo so, lì bisogna capire gli accordi e la preparazione per il record dell'ora, la preparazione fisica e tutto con i suoi preparatori e non posso dare un consiglio. Valuteranno loro meglio che di me sicuramente, meglio hanno il top del top in quella squadra lì, non credo che te ne sbagliano a fare conti. Io consiglio Saito, dicevo io, gli accordi ti devi fidare di un programma, di una programmazione, nella Trek c'è gente molto valida, quel cilena è il top e credo che sicuramente l'avranno gestito in modo di farlo crescere piano piano. L'unica cosa che posso dire è che mi auguro Nantrano di vedere il Giro d'Italia per vedere le sue possibilità, credo che Nantrano sia l'anno giusto che Tiberi possa fare il Giro d'Italia. Il corridore come lui direi di puntare alla maglia qua e a vincere qualche tappa, ma no alla classifica. Questo è il mio punto di... non è un'offesa al corridore qua, che lui ha detto eh cava è un'offesa, no 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 no, avere i corridori così che possano puntare a vincere la maglia qua o vincere le tappe al tour, purtroppo non ce ne sono e lui c'è, credo che sia un complimento. Io se fossi il suo direttore sportivo farei così, però non ho in gestione ragazzi, questa è una chiacchierata da barra, come può fare la gente, perché poi bisogna essere dentro le squadre, conoscere i corridori, conoscere le problematiche, conoscere tante cose. Io dico una cosa così, distinto, ma bisogna conoscere tante cose che non conosci. Senti, Damiano Caruso invece, dove può arrivare al Tour de France? C'è stata molto anche non polemica, ma disappunto sulla sua scelta di non tornare al Giro dopo che così bene aveva fatto. Secondo te ha fatto bene, dal tifoso? Ma la cosa che non viene mai detta, queste polemiche sono polemiche, alle squadre, a certe squadre gli interessa il Tour e non il Giro, non è quello, purtroppo. Purtroppo è così, la verità è quella, vogliono fare più un quinto posto al Tour che un podio al Giro. Le squadre del Tour e certe squadre sono così, è inutile fare polemiche, il Tour e il Tour per ora, è sempre stato così. Uno come Caruso potrebbe ambire di arrivare nei primi cinque al Tour, ma anche lui sarebbe meglio di vincesse delle tappe. Senti, gli ultimi nomi che ti faccio corrono nella stessa squadra che è la Quickstep e sono nomi validi, no? Abbiamo Cattaneo, Ballerini, Baggioli e Masnada. Spesso si ha l'impressione che anche loro siano un po' no oppressi da queste tattiche, che abbiano poca libertà, invece sono corridori che valgono. Secondo te un corridore in situazioni del genere come dovrebbe muoversi? Ma sai, loro corrono al top della squadra, io ho grande stima di Acquistep, credo che Bramati sia il miglior direttore sportivo in circolazione in questi momenti, perché come motiva lui, come vede, è un animale da ammiraglia, ammiragliano gli animali da ammiraglia. Questi ragazzi sono ragazzi molto validi, so che Masnada ha avuto dei problemi, penso che l'abbia risolti, Baggioli è un bel corridorino, sono dei miei corridori, bisogna aspettarli, purtroppo c'è delle gerarchie in certe squadre da rispettare e quando avranno il suo tempo sicuramente faranno vedere quello che valgono. Poi sai, dopo diversi anni io dico sempre che c'è degli appartamenti, uno deve scegliere l'appartamento del primo piano, secondo piano, terzo piano, quarto piano. Il quarto piano è il massimo, bisogna vedere che appartamenti va all'atleta e l'atleta lo deve sapere e dopo qualche anno deve conoscersi. È inutile stare a sentire o la stampa o i tifosi o altre persone. Perfetto Luca, grazie. Ciao